Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Non ha mai mostrato segni di pentimento Gianni Guido, uno dei colpevoli delle tremende violenze a due ragazze giovanissime e indifese. Solo Donatella Colasanti riuscirà a sopravvivere alle violenze, e per tutto il resto della sua vita patirà quel ricordo insopportabile, spirando poi nel 2005 per una neoplasia al seno, si deve a lei il racconto di quei dettagli agghiaccianti di quelle 36 ore di sevizie all'interno della villa del Circeo, di proprietà di Ghira. Durante i 14 anni di detenzione a Ribibbia, Gianni Guido conseguì la laurea in lingue e letterature straniere, per poi tornare in libertà l'11 aprile del 2008 usufruendo di uno sconto di pena di otto anni per indulto. Una circostanza che fu accolta con grandissimo rammarico da Letizia Lopez, la sorella di Rosaria, che ricordò come il colpevole non mostrò mai alcun segno di pentimento per quello che aveva fatto alla povera sorella. Secondo alcune indiscrezioni, una volta tornato in libertà Gianni Guido fu affidato ai servizi social e iniziò a lavorare come traduttore di opere. Altre informazioni sulla sua vita attuale sono molto incerte, ma secondo alcuni l'uomo, oggi 67enne, vivrebbe ancora a Roma.